Eletti i presidenti delle commissioni consigliari che passano da 6 a 4 in base a quanto previsto dalla riforma statutaria, rispondendo all'esigenza di una riduzione delle spese nell'ambito della pubblica amministrazione. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastro Vincenzo, ha partecipato così come previsto da regolamento alle diverse riunioni di insediamento che hanno preceduto l'elezione degli stessi presidenti. La prima commissione affari istituzionali, programmazione e bilancio sarà guidata da Francesco Giacinti del PD, affiancato in qualità di vice da Mirko Carloni dell'area popolare Marche 2020. Presidente della seconda, sviluppo economico, formazione professionale e lavoro, affari europei e internazionali e settore primario, Gino Traversini del PD, vice Piero Celani di Forza Italia. La terza, governo del territorio, ambiente e paesaggio, è affidata da Andrea Biancani del PD e vice Sandro Bisogni del Movimento 5 Stelle. Infine, presidente della quarta, sanità e politiche sociali, Fabrizio Volpini del PD, mentre vice Elena Leonardi di Fratelli d'Italia, alleanza nazionale. Per tutti l'augurio di buon lavoro formulato dal presidente Mastro Vincenzo. Con l'insediamento delle commissioni, la macchina consigliare diventa definitivamente operativa. La prima commissione affari istituzionali bilancio è una delle commissioni più importanti, sono stato letto vicepresidente, questa cosa mi fa molto piacere, oltre che mi darà la possibilità di seguire meglio l'iter legislativo delle norme finanziarie ma anche di quelle istituzionali e tra le varie competenze ce ne sono alcune come quella della sicurezza che incidono fortemente sul territorio, quindi cercheremo di essere ancora più forti e incisivi in attività di rappresentanza del territorio e dei bisogni dei marchigiani in regione. Sono già previste dalla prossima settimana le riunioni delle quattro commissioni per l'esame dei primi atti. Secondo Carloni uno dei primi sarà quello relativo alla legge urbanistica, attesa da molti anni, che potrebbe dare un grosso rilancio all'economia locale aiutando in particolare artigiani e piccole imprese. Non c'è dubbio che anche la legge finanziaria, penso ad esempio al ripristino dei fondi per il sociale, che è uno dei temi su cui ci siamo impegnati tutti durante la campagna elettorale, sia una delle prime attività che la commissione bilancio dovrà fare per vedere come ripristinare alcuni servizi, alcune assistenze sociali davvero importanti che vengono richieste soprattutto dalle persone più deboli, coloro che hanno difficoltà e sono in momenti di fragilità.